Due studi geologici commissionati ad altrettanti istituti specializzati di Torino e Pisa per due interventi da realizzare a breve, la rimozione delle macerie del crollo di via Amatrice e la messa in sicurezza del castello, del pianoro e del centro storico. L'amministrazione comunale di Ginosa, malgrado il governo non abbia erogato fondi, va avanti da sé. Il primo dei due studi è già pronto il 6 ottobre prossimo, il progetto è dentro la fine del mese il bando di gara e l'affidamento dei lavori. Il secondo arriverà a breve e comunque per la ristrutturazione del centro storico è già stata avanzata richiesta di fondi dall'otto per mille destinato alle calamità naturali. Ascoltiamo il sindaco di Ginosa, Vito De Palma. Il governo nazionale non ha ancora trasferito le risorse al nostro comune, nonostante questo però noi siamo andati ugualmente avanti in maniera molto decisa. E ancora si attende solo il parere del genio civile di Taranto per affidare i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nell'abitato per una spesa di 2,5 milioni di euro. Infine l'amministrazione del comune ionico ricorda che è in scadenza la richiesta per ottenere contributi economici da parte di privati per opere di consolidamento antisismico.